Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti. E questo è il progetto di legge, a firma dell'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli, che è già al centro delle polemiche. Le norme ambientali che potrebbero essere introdotte consentiranno di riprogrammare le volumetrie degli impianti pubblici di smaltimento previsti dal piano regionale dei rifiuti approvato nel luglio 2018, che non risultano effettivamente realizzabili a causa, ad esempio, di crisi societarie e perdita di titolarità pubblica. Ma gli ambientalisti sollevano dubbi sui criteri poco chiari, in base ai quali saranno spostate e tornellate di rifiuti per affari da decine di milioni di euro. Vi è poi un altro passaggio critico nel progetto di legge, ovvero quello che indicherebbe di riconvertire le cave in discariche, anche in prossimità di zone agricole, faldeacquifere, scuole, ospedali o in zone a rischio idrogeologico. Ovviamente rispettando precisi requisiti, ma quello che prima non era ammesso a priori, ora potrebbe diventare possibile. Il vice capogruppo del PD in regione, Dino Pepe, attacca la giunta, parlando di una scelta tutta politica contro gli interessi degli abruzzesi. Da cave a discariche. Questo è il cuore del progetto di legge presentato dalla maggioranza in consiglio regionale, che vuole trasformare le cave dismesse in potenziali discariche. Pensiamo ad esempio a Civitelle del Tronto, un luogo bellissimo, luogo del monumento più bello e visitato da Abruzzo, uno dei borghi più belli d'Italia. Lì ci sono tante cave che possono essere trasformate in potenziali discariche. Davvero uno scempio che si abbatte sulla nostra regione, che è stata definita la regione verde d'Europa. Per questa ragione noi di centro-sinistra abbiamo presentato oltre 5.000 emendamenti per bloccare questo provvedimento di legge voluto e presentato dalla maggioranza di centro-destra in regione Abruzzo.